Emozionata e divertente sfida nel campionato di serie sci di calcio femminile fra Pistoiese e Imolese. Alla fine, in un alternarsi di gol, errori e sorprese, sono state proprio le arancioni di Mr. Nicoli ad avere la meglio per 5 a 4. Il successo ha portato le firme di Mariani e Mannucci, autrici entrambe di una doppietta, e di Pompignoli. Abbiamo voluto dare spazio alle secondarie linee, abbiamo trovato una squadra molto grintosa, non si sono mai lasciate andare, e noi ci siamo trovati in difficoltà perché a un certo punto abbiamo voluto fare per conto proprio, invece di fare gioco si andava con palla a terra per conto proprio, quindi in questo caso si faceva un grosso errore. Sicuramente i tre punti ci fanno molto comodo per la classifica, per il resto abbiamo visto che le secondarie si sono impegnate tanto durante la settimana e abbiamo dato il suo supporto a questa partita, che sicuramente è diventata difficile per alcuni errori che abbiamo fatto.